Il punto più duro è l'attacco di Grillo, Napolitano scrive sul blog nominerà Renzi, un boss carrierista senza scrupoli, così lo definisce l'ex comico, come ha fatto con Monti e Letta ignorando il Parlamento. E almeno ci risparmi l'ipocrisia delle consultazioni al Quirinale, consultazioni alle quali il Movimento 5 Stelle potrebbe non partecipare. Il Partito Democratico non ha nemmeno il coraggio di sfiduciare il Primo Ministro in Parlamento, ma lo fa nelle segrete stanze. Noi invece vogliamo fin da subito l'abolizione dell'IRAP, un reddito di cittadinanza e una legge vera sul completo di interessi.